Dopo i test d'inizio stagione dove Bortalico e Minganti hanno ottenuto dei discreti risultati, le cose non sono andate come previsto. Durante la prima gara dell'Europa di salita all'Andschag in Austria, Maurizio purtroppo in seguito a questa caduta ha riportato la frattura del femore. La settimana successiva, Theo a Vallelunga durante le qualifiche della RR Cup, purtroppo in una scivolata si è fratturato la testa dell'omero destro. Su Delis Academy però non si ferma, attende la guarigione dei suoi piloti ed anzi prepara una moto migliore per entrambi. Quindi seguiteci perché ce ne saranno delle belle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione, su Delis Academy declina ogni responsabilità da quello che potrete sentire in seguito. Le immagini sono tratte dal casco di Antonio Limongiello durante la gara dell'RBF Cup. Adesso si parte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti